Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera! Allora... Oggi ragazzi è veramente una giornata storica, straordinaria ed unica! Oggi, martedì 6 ottobre 2020, Zebra Bianconera raggiunge i 100 iscritti! E andiamo ragazzi, e andiamo! Oh, ringrazio vivamente tutti i miei iscritti! Vi voglio veramente un bene dell'anima a tutti quanti! Siete veramente straordinari ed unici ragazzi! Grazie mille ragazzi, vi voglio veramente un bene dell'anima! E oggi festeggiamo questa grandissima giornata i 100 iscritti su Zebra Bianconera! E andiamo! Bene ragazzi, con questo è tutto! Vi auguro una buona giornata! Iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi anche su Instagram su Zebra Tattilo Basso Bianconera! Fino alla fine, forza Juventus! Buona giornata a tutti ragazzi! Ciao! Ciao!